Allora stasera abbiamo fatto un'ottima partita soprattutto per il fatto che questi due giorni che ci hanno diviso fra la partita con il Texas e oggi contro il Tennessee abbiamo lavorato sul side out e si è visto qualcosa di buono devo dire, sono veramente soddisfatto perché nella direzione in cui abbiamo lavorato ci sono visti dei miglioramenti per cui questo va molto bene e per quello che riguarda muro difesa insomma abbiamo fatto un po' insomma qualche errorino però era normale visto che non ci abbiamo lavorato per niente per cui confermo l'utilità di queste tre amichevoli sono state importantissime per noi e quindi abbiamo ci siamo conosciuti meglio fra staff tecnico e giocatrici per cui è stato un periodo molto importante che continuerà perché avremo ancora tre settimane di lavoro e quindi sfrutteremo queste settimane per approfondire meglio le cose che dobbiamo migliorare.